Franco Iachini entra nel merito della trattativa che dovrebbe portarla all'acquisizione della Teramo Calcio e lo fa in maniera social con un post pubblicato in mattinata su Facebook nel quale nega voci di stampa che riguardano il futuro assetto della Teramo Calcio sia sotto il profilo organizzativo che tecnico soffermandosi solamente sulla parte più strettamente economica in una fase in cui è in atto una due diligence ovvero l'approfondimento di informazioni relativi all'oggetto di una trattativa per valutarne la convenienza, considerarne rischi e benefici e soprattutto negoziare i termini di un accordo arrivato con un'intesa preliminare venerdì sera con Luciano Campitelli I consulenti di Iachini, come ammette lo stesso imprenditore, stanno vagliando le carte indagando l'aspetto relativo ai bilanci della società e ogni altro riferimento a mercato, organigrammi, investimenti in infrastrutture è completamente fuori luogo e prematuro Sono abituato, continua, a lavorare per step e non ad essere tirato per la giacca da una parte o dall'altra Non esiste nemmeno una data fissata per la firma davanti a un notaio, continua Iachini bensì un accordo di massima con Luciano Campitelli per definire l'evoluzione della trattativa L'unica scadenza a me conosciuta è quella del 21 giugno data entro la quale avrò preso una decisione se le condizioni che mi sono state prospettate inizialmente verranno confermate e poi la stoccata finale se qualcuno avesse intenzione di far saltare la trattativa, conclude Iachini ha scelto la strada giusta sono pronto a lasciare la trattativa prima ancora di iniziarla Ora si attendono le evoluzioni della questione considerando che anche nella giornata di oggi, come accaduto ieri il direttore generale biancorosso Emilio Capaldi sarà colloquio per illustrare la situazione economica finanziaria della società tenuto conto che in ogni caso non ci sarebbe nulla di sbagliato per una proprietà che ha intenzione di rilevare una società di calcio vagliare le ipotesi organizzative future per il momento Iachini ammette di non averne e che comunque la situazione è sotto lo stretto controllo di chi si occupa di vagliare i documenti e di farlo nella maniera corretta Quanto durerà questa due diligence? L'auspicio è che i tempi siano ristretti